L'associazione Melcenza Legalità si arricchisce di una nuova iniziativa su Salerno Città. Sì, oggi è un giorno importante perché l'ordine dei commercialisti di Salerno e nella persona del Presidente Giordano ci ha dato la possibilità di stipulare questa convenzione che per noi l'associazione è molto molto importante perché sovradebitamente purtroppo investe un sacco di persone, persone di imprese ed è il passaggio successivo all'usura. Quindi se noi riusciamo a fare prevenzione, aiutare queste persone che vengono da noi e chiedono assistenza perché purtroppo sono sovradebitati per tanti problemi, certamente possiamo essere di supporto ed evitare che queste persone vanno a finire nelle maglie dell'usura che purtroppo oggi è dilagante proprio in questo momento in cui le banche hanno chiuso i lucchetti e non danno la possibilità di attingere il credito per cui altre possibilità o usuro oppure questa possibilità di aiutarle con un'attività effettuata da questi professionisti che sono dell'ordine dei commercialisti di Salerno daremo la possibilità a queste persone di aiutarle e quindi uscire fuori dal tunnel del sovradebitamento.